Ecco, voglio semplicemente fare una prova per farvi vedere i tappeti della nuova collezione. Quelli appena arrivati, l'ultima importazione. Adesso non sono un grande cineasta, però i tappeti sono belli. Non so se sono neanche in luce giusta, li sto riprendendo dall'alto. Questo è un Badoi, è una variazione dell'originale disegno a cascata di fiori di damasco trasversale. È giocato con dei colori straordinari che vanno bene in tantissimi ambienti al giorno d'oggi. Lo giriamo. Questi sono tutti tappeti dalla misura 3 metri per 2,50. 2,50 di larghezza per 3 metri di lunghezza. Ecco, questo è un'altra della collezione Badoi. Badoi ha disegno damasco. Questa è proprio l'originale cascata di fiori di damasco giocato in modo trasversale. I prezzi di questi tappeti variano da 3.000 a 6.000, ecco, grosso modo. Comunque, i Badoi sono quelli che costano un pochino meno, sull'intorno ai 3.000-3.500. Questa è una misura grande. Possiamo andare avanti con un altro tappeto. Allora, questo è un altro Badoi. Anche questo ha una densità di nodi di 100 nodi ogni inch quadrato. È una densità tra le più alte. C'è soltanto la densità dei tibet che è superiore. Però, tante volte, non conta tanto la densità dei nodi quanto l'effetto che si riesce a trasmettere. Questo, ovviamente lo vedete, che è annodato in lana e seta, in percentuali diverse, per dare una luminosità diversa. Questo è un tappeto tibet, invece. Allora, purtroppo da questa angolazione non si riesce a vedere la seta. In ogni caso, tutta quella scura che vedete è seta luminosissima e bisognerebbe vederlo girato dall'altra parte. Ce la facciamo a farlo vedere girato così. Questo è un tappeto tibet. Ecco, vedete che intanto che lo giriamo si vede, ecco, vedete il colore originale. Prova a girarlo dall'altra parte e farlo vedere se riusciamo, soltanto così, per farvi vedere la differenza che c'è tra un lato ed un altro. Ecco, così si vede. Questo è un tappeto della collezione tibet. Il disegno è un disegno stromboscopico, nel senso che... No, no, sbagliato, caleidoscopico, nel senso che è simmetrico sia in un senso che nell'altro. Ecco, adesso così vedete tutta la seta. Bene, lo puoi togliere e passiamo ad un altro. Siamo, diciamo, collezione tibet con seta là, seta del bacco da seta e 150 nodi ogni inchi quadrato. Questo è un altro bel tibet, è un quadro informale. Praticamente c'era un quadro informale, abbiamo fatto la fotografia, abbiamo realizzato un tappeto. Questo artista non ha copyright, fortunatamente, quindi non devo pagare il copyright all'artista, però è molto carino come disegno, è giocato veramente bene, ha una luce unica. Anche questo è un tappeto della collezione tibet. Questi tappeti sono tutti 3 metri per 2,50 metri, una misura che è molto diffusa, in quanto tra due divani sta molto bene. Questo è un altro damasco badoi, giocato con due tonalità di grigio. La particolarità di questo tappeto è la tinta grigia di fondo che è ottenuta mischiando tre o quattro tipi di grigi diversi. Torniamo a... Ecco, sappiamo tutti che il grigio è il colore che in questo momento sta andando per la maggiore, ma i grigi sono tutti, basta una leggera sfumatura che cambia tutto. Questo è un bel disegno riuscitissimo, realizzato nella qualità da 100 nodi dai badoi. È un disegno modulare, andiamo avanti, è già uno più bello dell'altro. Ad esempio, questa è la mia passione. Questo è un tibet, è un quadro informale con una luce unica, è giocato anche con tantissima seta, seta bordeaux, rossa. È molto forte, ma è decisamente bellissimo. Qui la cosa importante in questi pezzi è l'esplosione di fantasia che troviamo tra un tappeto e l'altro. Uno sono uno più importante, più giocato... Guardi, questo è una variante del disegno magma di Giorgio Palù. Diciamo che non è il suo disegno, è l'imitazione del disegno di Giorgio Palù. Perché ho poi gli originali di Giorgio e c'è anche questo. Questo che hanno voluto copiarlo è riuscito abbastanza bene, ma non come gli originali che poi vi farò vedere in un altro momento. Però c'è tantissima seta, sempre realizzato con 150 nodi, una qualità fantastica. Questo è un po' importante, il tappeto che va visto un po' di tempo, anche ha dei colori forti, ha 3-4 tipi di verde, dal verde petrolio, dal verde acqua, ed è un disegno informale. E' anche questo tratto da un dipinto. Questo mi piace tantissimo. I grigi sono 3 o 4 tipi di grigio diversi. Uno con quei gialli, assolutamente. La qualità è sempre 150 nodi, seta del bacco da seta, fantastico. Questo che vediamo adesso è un disegno che avevo già realizzato nell'altra importazione ed è piaciuto tantissimo, tant'è che sono passato a realizzare anche un secondo esemplare. Questo è il numero 2, non ne faccio mai più di 3, perché i tappeti sono tutti pezzi unici, sono tutti come numero inferiori a 10 e mai più di 3 per politica mia. Il disegno è un disegno che si può trovare sul mercato, ma non così bello, perché a volte basta una piccola sfumatura, metterci meno seta e giocare bene l'abbinamento dei colori che cambia completamente. Anche questo è un gran bel tappeto, questa è l'imitazione di un tappeto che ho disegnato io. Il mio tappeto si chiamava Tormento, questi hanno visti i miei tappeti sul mercato e hanno realizzato i tappeti cercando di imitare il mio. Ci sono riusciti abbastanza bene, tant'è che io li ho comprato anche l'imitazione dei miei, perché i miei sono molto più difficili da realizzare e costano di più. Questo ha il vantaggio di avere il prezzo, io lo ritengo bello perché è il mio, il disegno, anche se è l'imitazione del mio, è comunque carino. Questo è un tappeto di un'eleganza unica, giocato con dei colori tenui, tantissimi colori. Non so se riuscite a notare i piccoli aranci, il tinta pesca che sono inseriti all'interno, non c'è soltanto l'azzurro. Altro tibet bellissimo, questo è forte come colore, a me questo non è il mio, vorrei averlo disegnato io da tanto che è bello. Molto, il giallo è un giallo oro, ha sempre 150 nodi ogni quadrato, la misura grossomodo è sempre 2 metri di 50 per 3, lana e seta, seta del baco da seta. Anche questo è stupendo, questo è un bellissimo disegno, un mare l'ho chiamato, è luminosissimo. Di questi pezzi ho realizzato anche l'INFT, il non fungible token, cioè ci sono anche, se non si vuole acquistare il tappeto, c'è l'immagine unica del token, del non fungible token. Altro artista sconosciuto, ma non per questo meno bravo, questo è un quadro informale, un quadro informale realizzato ad olio su tela, l'originale è molto più piccolo, ma ci ha trasformato in un tappeto. Funziona così, non è che io faccia il tappeto, io prendo le fotografie, equilibrio i colori e le misure, poi do il tutto all'Ustac che calcola dove mettere i nodi. Quindi lui dice, fa sulla carta millimetrata, qui ci vuole un nodo beige, qui uno rosso, qui uno azzurro, e quindi poi passa alla manifattura che realizza il tappeto vero e proprio. Ecco, mi faccio dire che, come si fa a commentare un tappeto, è bello e basta, alcuni ritengono che sia scuro, dipende, c'è tantissima luce, c'è tanta seta, è intenso, ha un senso della profondità. Adesso non so se con questo video si può vedere bene, vi posso garantire che dal vivo è straordinario, anche la qualità e tutto, ma anche l'accostamento dei colori non è mai banale. Questo è un disegno particolarissimo, richiama un po' gli anni Ottanta, è un disegno sprazzi, non è il disegno net, ma richiama, richiama la rete, richiama una rete di nodi, e che è assolutamente un tappeto contemporaneo, pur essendo realizzato con il nodo persiano. Tutti questi pezzi sono realizzati con il nodo persiano. Questo è 150 nodi ogni inchi quadrato, è lana e seta. Questo va appeso, uno dice, no lo voglio vedere appeso, anche in terra ha lo stesso effetto che è appeso. Si vede la profondità e si vede qualcosa al di là di quello che è il disegno. È informale, quindi non ha una forma vera e propria, ma ognuno ci può leggere qualcosa. Ha dei colori straordinari, con il nero fantastico, tantissima seta. Questo è un altro colore di grande tendenza, è un giallo, giallo-oro mischiato con dei grigi. I grigi sono tre o quattro, i gialli sono diversi. Il tappeto è diverso da una parte all'altra, in alcuni punti dà un accenno come se avesse una bordura da tappeto orientale in altri scompare, è parzialmente destrutturato, quindi. Noi chiamiamo questa qualità Tibet e li facciamo tutti annodare in India. I disegni sono quasi tutti italiani, sono artisti informali italiani, oppure c'è anche qualche artista orientale che mi dà il disegno, uno più particolare dell'altro. Ad esempio questi sono tre disegni che ho mischiato assieme, perché sono tre disegni, uno che si incastra nell'altro e gioca con dei colori giallo-rosso e i grigi. Da questa parte si legge più scuro, il tappeto non è così scuro, il tappeto è luminosissimo. Bene, io direi di smettere, perché non voglio annoiarvi, avete visto, come questi sono soltanto alcuni dei pezzi dell'ultima importazione. Farò un altro video con quelli più piccoli, così. Ci vediamo un'altra volta. Bello spettacolo, secondo me è un bello spettacolo. Giudicate voi. Grazie di avermi ascoltato.